Non fu un suicidio, ma un forte stato di alterazione psicofisica che spinse il giovane, un 17enne, a lanciarsi contro un treno merci che lo travolse ed uccise, il tutto a causa dell'effetto della cocaina. Per questo, per lo spacciatore, un 42enne residente ad Arezzo, accusato di morte come conseguenza di un altro reato, è arrivato a una vera e propria sangata. L'imputato, infatti, è stato condannato a 10 anni di reclusione, due in più rispetto alle richieste del PM, e dovrà inoltre pagare una multa di 45.000 euro e una provvisionale di 500.000 a titolo di anticipo del risarcimento danni ai genitori del giovane. Il fatto è accaduto nel maggio 2013 alla Spezia. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, fu proprio il 42enne a cedere la cocaina al giovane che fino ad allora non aveva mai fatto uso di droga. La cessione avvenne nel pomeriggio del 28 maggio 2013 in due occasioni, prima una gratuita, poi il bis, quello che risultò letale, a pagamento. Lo spacciatore, come accertato dai militari, arrivò al punto di preparargli le strisce da sniffare. Fu così che, in evidente stato di alterazione, il ragazzo si lanciò contro il convoglio, come se avesse la percezione che nulla sarebbe potuto succedere. La consumazione avvenne assieme ad altri quattro conoscenti, tutti maggiorenni. I carabinieri riuscirono a risalire a loro, ritessendo il traffico telefonico di quella sera. Adesso, a sette anni di distanza, è arrivata la condanna esemplare per quella morte così assurda.